Il primo passo del nostro cammino è scendere nel cuore. Con questo titolo vogliamo introdurre il nostro cammino e invitarvi prima di tutto a prendere consapevolezza di quello che si muove nel nostro cuore. Per molto tempo la nostra vita affettiva nella tradizione spirituale è stata messa un po' da parte, come se ci potesse essere una vita spirituale senza vita affettiva, anzi forse l'indicazione era quella di congelare o forse addirittura un po' reprimere il nostro mondo affettivo come qualcosa che poteva turbare la nostra vita spirituale. Forse in questo modo ci siamo tolti la possibilità di vivere pienamente la nostra relazione con Dio, perché come scopriremo un po' in questo cammino non ci può essere una vita spirituale senza il coinvolgimento del nostro mondo affettivo, cioè dei nostri sentimenti, dei nostri pensieri, di quello che si muove dentro di noi. Per capire questo possiamo partire da un passo del Vangelo di Marco, nel primo capitolo del Vangelo di Marco. C'è un uomo che probabilmente ogni sabato entrava nella sinagoga, ascoltava la parola di Dio, ma un giorno Gesù entra in quella sinagoga, annuncia la parola con più forza e quest'uomo scopre di essere abitato da uno spirito impuro, uno spirito impuro che probabilmente aveva congelato il suo mondo affettivo perché quella parola che ascoltava non lo toccava, la sua vita stava da un'altra parte. Questo forse può succedere anche a noi che ascoltiamo la parola di Dio, ma questa parola non ha niente a che fare con la nostra vita, non ci colpisce, non ci mette in discussione, non ci cambia. Invece vogliamo proporvi di cercare di riscoprire la profondità, la ricchezza del nostro mondo affettivo che è il canale attraverso cui il Signore ci parla. In che modo il Signore ci parla? Ci parla soprattutto muovendo dentro di noi dei pensieri che suscitano, che muovono gli affetti dentro di noi. Vedremo andando avanti più specificamente cosa succede in questo rapporto tra pensieri e sentimenti, ma adesso proviamo a cominciare a trovare gli strumenti per poter capire questa relazione, come funziona la nostra vita spirituale. Prima di tutto anche la psicologia contemporanea ci aiuta a capire questa relazione. C'è una famosa teoria che si chiama la Rational Emotive Therapy che dice esattamente questo, quindi qualcosa che accade anche nella nostra vita ordinaria. Quando ci troviamo davanti ad una situazione noi proviamo qualcosa, si muove il nostro mondo affettivo, non diciamo ancora se si tratta di emozioni, di sentimenti, ma davanti alle situazioni qualcosa dentro di noi si muove. In realtà non è quella situazione o quell'evento che ha suscitato la nostra reazione, ma l'opinione che noi ci stiamo facendo di quella situazione. Per esempio ci capita a volte di essere nel traffico, ma alcuni reagiscono arrabbiandosi, alcuni reagiscono mettendosi a cantare. Perché? Perché il pensiero che loro hanno su quella situazione è diverso. Questo ci fa capire che, come diceva un antico filosofo epitteto, non sono le cose in sé che ci danno fastidio, ma l'opinione che noi ci facciamo di esse. Questo vuol dire che quando noi sentiamo qualcosa dentro di noi dobbiamo sempre chiederci qual è il pensiero che c'è dietro. Sto sentendo questo davanti a questa situazione, ma perché? Adesso però dobbiamo fare una ulteriore distinzione fondamentale proprio per capire come funziona il nostro mondo affettivo e la nostra vita spirituale. E anche qui è una distinzione che ci viene dalle neuroscienze. Un famoso neuroscienziato, anche divulgatore, che si chiama Damasio, ha proposto una differenza tra le emozioni e i sentimenti. Qual è la differenza? Le emozioni, dice Damasio, sono delle reazioni automatiche e immediate a degli stimoli che colpiscono il nostro corpo, la nostra fisicità. Per esempio, provo rabbia e divento rosso, oppure mi spavento, divento pallido. E queste emozioni sono temporanee, cioè durano quanto dura lo stimolo, durano mentre è presente lo stimolo. Quindi sono temporanee e soprattutto sono pubbliche, perché tutti possono vedere attraverso le manifestazioni somatiche che cosa sto sentendo, che emozione sto provando. Oppure, se facessimo una risonanza magnetica del cervello, tutti potrebbero vedere quali sono le aree del cervello che si sono attivate. Queste sono le emozioni, reazioni immediate e automatiche. I sentimenti invece, dice Damasio, sono legati ai nostri pensieri. Non esiste un sentimento senza un pensiero e tutti i pensieri portano anche a dei sentimenti. Anzi, dovremmo pensare queste due dimensioni, sentimenti e pensiero, come qualcosa che sta sempre insieme. E quindi i sentimenti perdurano nel tempo, anche senza lo stimolo, anche senza la presenza dello stimolo, e i sentimenti sono privati, perché solo noi possiamo sapere che cosa stiamo pensando di quella situazione. Ecco, proviamo allora, come primo esercizio, come primo passo a esercitarci, provare ad ascoltare quello che si sta muovendo dentro di noi davanti ad una situazione che stiamo vivendo e proviamo ad esercitarci a scoprire qual è il pensiero, l'opinione che c'è dietro quel sentimento che stiamo sentendo, che si muove dentro di noi. Ovviamente, piccola attenzione, perché dentro di noi ci sono più sentimenti davanti in una situazione. In genere c'è un insieme di sentimenti. Ecco, dovremo, capiremo perché, esercitarci a scoprire dietro ciascun sentimento qual è l'opinione, qual è il pensiero. Vedremo che questo ci aiuterà a crescere molto nella nostra vita spirituale e nella nostra relazione con Dio.